buongiorno a tutti prosegue ancora una volta sotto legida o se preferite l'alto patronato di hapler e del sul pl che ringrazio sempre tantissimo per la fiducia che mi accordano fiducia peraltro immeritata me ne riprendono i nostri incontri so che ormai non potete farne a meno e quindi va beh insomma mi sacrifico per il vostro benessere come è sempre dovere degli ufficiali della polizia locale oggi vi intratterrò sul nuovo dpcm che ci ha regalato il nostro amatissimo giuseppe dpcm che entrerà in vigore domani quindi mettiamo anche delle date oggi il 25 ottobre entrerà in vigore il 26 ottobre e avrà efficacia fino al 24 novembre sostituisce il dpcm del 13 ottobre modificato e integrato da quello del 18 ottobre quindi questi vengono sostituiti dall'attuale dpcm fondamentalmente questo dpcm a riprende o conferma tutta una serie di cose che non sto a raccontarvi ricordo solo perché è importante dobbiamo avere attenzione ancora prima noi come cittadini che come tutori del rispetto della legalità e in questo caso anche della salute degli altri soprattutto di quegli imbecilli che cercano di aggirare queste norme allora rimane confermato ovviamente l'obbligo di avere con sé sempre quindi dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione di quei casi in cui o per le caratteristiche dei luoghi se siete sul cocuzzolo della montagna da soli ok o per le circostanze di fatto se siete come me la settimana scorsa alle 7 di sera sulla scalinata che conduce alla chiesa di santa maria in araceli e sta piovendo quindi non c'era un cane sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento ovviamente rispetto alle persone non conviventi viene aggiunto in questo caso un inciso dice comunque con salvezza dei protocolli delle linee guida anti contagio relative alle attività economiche produttive amministrative sociali e nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande quindi ovviamente nel caso in cui questi protocolli prevedano delle eccezioni delle deroghe ovviamente in stringenti non concessive sono comunque da rispettare quelli rimangono le solite eccezioni quindi chi non è tenuto ad indossarla anche all'aperto soggetti che stanno svolgendo attività sportiva così abbiamo schiantato un po' di dubbi interpretativi bambini di età inferiore 6 anni e soggetti che con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che con questi debbano interagire viene raccomandato quindi non c'è sanzione perché è una raccomandazione l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie quindi delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi il dpcm continua dicendo che dopo le ore 21 è possibile disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze l'abbiamo già detto anche l'altra volta nei centri urbani anche perché vedo difficile fuori dai centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento con la solita possibilità di accesso e di deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private una roba come potete immaginare semplicissime da organizzare e da gestire ma va bene è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche io aggiungerei anche quelle giuridiche cioè il discorso è va bene di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative di studio per motivi di salute per motivi di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi quindi è fortemente raccomandato a tutti di non spostarsi ma è possibile farlo per usufruire di servizi non sospesi quindi io voglio andare a bere alle 4 del pomeriggio il caffè al bar lo posso fare perché è un servizio non sospeso ma è ancora ribadito la novità che era stata introdotta da poco l'obbligo di esporre dei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è stato ribadito all'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che deve riportare il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale sulla base dei soliti protocolli e delle linee guida che ormai sappiamo essere quelli soliti che trovate in allegato anche stavolta al dpcm bene come si fa a stabilire quante persone possono essere ammesse contemporaneamente nel locale perché uno mi scrive una qualunque cifra e io io come faccio a saperlo allora fondamentalmente le associazioni di categoria ai loro associati hanno dato questa indicazione quindi non ha un valore diciamo vincolante però può servire come criterio a noi per verificare se c'è qualche furbetto che scrive un numero a caso sparato tanto per sparare o se invece è un numero verosimile allora le associazioni di categoria consigliano questo partendo dal layout del locale i tavoli vanno considerati come occupati tutti da conviventi o comunque da persone che non siano tenute all'obbligo del distanziamento interpersonale tipo gli accompagnatori dei disabili perché ovviamente questa è una responsabilità dei dichiaranti e non obbligo di verifica da parte degli esercenti comunque è a carico dell'esercente garantire il distanziamento di almeno un metro del solito famoso metro tra i clienti che non siano conviventi oppure che non siano accompagnatori esentati quindi fondamentalmente questo tavoli trattati come conviventi ovviamente se non lo sono deve a rimanere la distanza di un metro e quindi il numero può diminuire però il numero massimo è da calcolare così nel caso invece in cui non sia possibile effettuare il consumo ai tavoli il numero massimo da calcolare bisogna ottenerlo garantendo il distanziamento solito del metro tra gli avventori quindi in quel caso lì il gestore vede un po' com'è il suo layout e deve dividere lo spazio in maniera tale da garantire almeno un metro di distanza ribadisco non è una competenza nostra stabilire il numero però potrebbe essere interessante verificare se questo cartello con l'indicazione della capienza è fatto con criterio quindi per rispettare la norma o se è fatto tanto per fare nel qual caso potrebbe essere una falsa indicazione magari una sanzione ci potrebbe scappare lo stesso è da approfondire speriamo non ce ne sia bisogno sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici quindi competizioni solo in ambito professionista o dilettantistico riconosciuti dalle varie federazioni non mi dilungo perché sapete che lo sport è contro la mia religione soprattutto il calcio ribadisco referendum per abolire il calcio anche gli allenamenti in questi casi comunque devono rispettare le linee guida devono venire a porte chiuse le solite manfrine sono sospese le attività di palestre di piscine di centri natatori di centri benessere di centri termali fatta eccezione ovviamente di quelli che hanno un presidio sanitario obbligatorio o che effettuino erogazione di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza quindi è chiaro che dove c'è da fornire un'assistenza quindi in termini diciamo medici non ne vige la sospensione altrimenti sospensione sono sospese ancora le attività dei centri culturali dei centri sociali dei centri ricreativi ferma comunque restando la sospensione quindi delle attività di piscina e palestre l'attività sportiva di base e quella motoria in generale si può svolgere all'aperto presso circoli e centri sportivi sia pubblici che privati ma sempre rispettando le norme sul distanziamento sociale senza ovviamente l'assembramento in conformità con le linee guide emanate dall'ufficio sport a chi interessa se le andrà a vedere sono consentite invece le attività dei centri di riabilitazione quelle dei centri di addestramento e queste non ci interessano sono ancora sospese le gli sport di contatto quindi niente sport di contatto e sospesa anche l'attività sportiva dilettantistica di base le scuole l'attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto nonché tutte le gare le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto anche se aventi carattere ludico e amatoriale chi fosse interessato a sapere quali e quanti sono gli sport di contatto sono almeno oltre i 100 credo sui 130 tra questi sicuramente saranno oggetto della vostra attenzione dei vostri controlli perché non si devono assolutamente svolgere per esempio il sumo e il tiro alla fune io ovviamente sono campione regionale di sumo quindi venitemi a controllare mi beccate sicuramente in fallo altra novità che ci interessa anzi questa invece una novità che ci interessa sono sospese le attività di sale giochi sale scommesse sale bingo e casinò quindi niente sale giochi sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali sale da concerto cinematografiche e anche in altri spazi all'aperto scusate se ogni tanto mi mangio qualche parola rimangono sospese lo erano già le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche per le discoteche vale il referendum di prima degli sport andrebbero chiuse per legge e locali assimilati all'aperto o al chiuso vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle abitazioni private essendo fortemente ovviamente raccomandato non c'è sanzione e poi vorrei vedere chi va a controllare ma questo è un altro discorso sono vietate le sagre le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi stavolta sono stati più generici con i termini così ci fanno meno problemi ovviamente già l'attività congressistica quindi non sto a ripetermi su quello novità invece di rilievo riguardano la famosa lettera e e perché è una di quelle che che ha maggiore importanza per i controlli della polizia locale allora le attività dei servizi di ristorazione fra cui i soliti ce lo ripetiamo perché è bene ricordarcelo insomma pub, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle 5 del mattino fino alle 18 quindi al bar o al ristorante ci andate dalle 5 alle 18 se ricordate uno dei progetti era quello di chiudere la domenica è saltato quello ma c'è questo limite orario dalle 5 alle 18 il consumo al tavolo non è più di 6 persone ma massimo 4 persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi quindi possono esserci dei tavoli anche con un maggior numero di persone ma solo nel caso in cui siano tutti conviventi quindi ricordo ancora l'ho già detto prima non è onere del gestore verificarlo ok ovviamente un tavolo con un maggior numero di persone deve comunque può essere mantenuto a distanza dagli altri ok ma questo se lo sapevamo già dopo le 18 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive ma solo per i propri clienti che vi siano alloggiati è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio ovviamente con rispetto solito delle norme igienico sanitarie e questo ormai lo sappiamo è consentita fino alle 24 quindi fino a mezzanotte la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze quindi fino alle 24 ristorazione con asporto sì ma no consumazione sul posto o nelle adiacenze ovviamente queste attività si possono svolgere sempre nel rispetto delle linee guida e sempre che le regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con ovviamente l'andamento della situazione epidemiologica quindi al momento insomma così è per cui non stiamo non stiamo preoccuparci di altro continuano ad essere consentite le solite attività che sono sempre state consentite ma ce lo ripetiamo delle mense del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro come al solito e sempre rispettando le linee guida ok non so se lo devo ripetere per cui vado avanti ultima cosa rimangono sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade quelli negli ospedali e negli aeroporti ovviamente sempre con la garanzia del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro bene io direi che con questo ho finito ringrazio ancora tutti per la pazienza è sempre un piacere sentirvi cioè in realtà non vi sento ma è lo stesso mi hanno garantito vari colleghi che questi video sono fantastici per prendere sonno la sera quindi ne consiglio l'assunzione appena chiudono i pubblici esercizi così poi andate a letto tranquilli e no davvero un caro ancora una volta un caro saluto a tutti vorrei salutare una persona in particolare che ha fatto una grandissima figura in un concorso da funzionario di polizia locale in romagna non posso dirne il nome sto scalpitando perché è giusto aspettare che lo che lo assumano formalmente lui avrà capito di chi parlo che è una grandissima persona ad ogni punto di vista magari al prossimo dpcm se gli hanno già firmato il contratto vi dirò chi è poi le mie solite fantastiche ragazze che mi danno una mano in ufficio anche il mio capo che ultimamente si sta comportando meglio del solito un abbraccio fortissimo a Lorenzo che mi dà una mano con questi video e a tutti gli amici e i colleghi dell'appler e del sulpl alla prossima perché temo che purtroppo ci dovremmo risentire